Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Buonasera o buongiorno o buonanotte, dipende da quando vi collegate. Questo è Risolto Giallo, io sono Alessia Sorgato. Io mi sono dimenticato chi sono, avevo sbagliato un attimo un gesto. Comunque io sono Niccolò Mazzavillani. E con noi oggi c'è un fenomeno letterario, una coppia che inizia a scrivere su determinati argomenti, poi attraversa quel mare infido ma simpatico del blog e approda a un giallo, che non è soltanto un giallo ma tanti generissimi. Quindi da lì si passa qui. E ci sono anche dei passaggi precedenti. Comunque partiamo dalle basi. Buongiorno, buonasera. Buongiorno. Presentatevi pure. Io sono Marco Bottarelli. Io sono Maurizia Trigiani. E insieme siete la... Disordinari Family. Disordinari Family. Una coppia di fatto nella vita, nel lavoro, nei libri, nella scrittura. Io ho detto prima che avete attraversato vari ambiti, vari generi. Comincerei da quello che avete fatto prima di diventare la Disordinari Family. Quindi cosa ha fatto Maurizia? Cosa ha fatto Marco? Allora, noi ci siamo conosciuti in ufficio, proprio facendo tutt'altro. Lavoravamo nella stessa azienda e lui aveva scritto un manuale di informatica. Il mio capo me l'ha mandato alla scrivania per vendere il suo libro in una delle vendite che organizzava la nostra azienda. E io, siccome l'ho visto che sembrava Ryan Gosling, nonostante fossi sposata, ho cercato di rimorchiarlo dicendogli che avevo scritto un libro erotico. E quindi eravamo colleghi scrittori. Attenzione. Attenzione. Lui se l'è comprato la sera stessa, quindi ho detto ci sta, e mi ha fatto l'analisi del testo, dicendomi che mi avevano editata molto male. Non ha usato molto male come parola, sì. E ho capito, ho pensato no, non ci sta, ho sbagliato qualcosa. Beh, io l'altro giorno ho conosciuto, ve lo giuro, una doppiatrice di film porno, giuro. E le ho detto sei la mia eroina, da qui in poi. C'è chi, c'è... Scusa, lui le ha fatto l'editing? No, è giusto, scusa. Restiamo, 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 restiamo... Correva l'anno? 2014. Ah però, ah però, qua sta arrivando la candelina del decennale. Sì. Vedi di ricordarti la data giusta. Sì, sì, sono più pericolosa io. Va a vedere su Amazon l'acquisto del libro e la ritrova in un attimo. Ok, quindi si comincia così. Si comincia così, dopo tre mesi, invece di avere una relazione come volevo io, scriviamo insieme un altro libro erotico, che ci autopubblichiamo. C'è un rosa erotico. Sì, lui rosa, cioè ha portato... Lui è la parte più pink, tu sei. Io sono quella più disturbante. E niente, siamo andati avanti così per un po', nel senso che poi lui mi ha fatto arrabbiare e allora abbiamo scritto un thriller, che è questo. Eh no, ma prima c'è quello. No, noi abbiamo scritto prima. Ah, vedi, vedi, hai sbagliato. Scuppone, ha risolto giallo. Tra l'altro, un titolo, immagino, non scelto a caso, cioè io ti vedo, quindi ha seguito anche della rabbia che c'è stata, della lite prima, quindi è un titolo che si adattava. Sono io che lo stalkerò su Instagram e lo detesto, sì. Perfetto. Quindi, in questa fase di io ti vedo, siete già la coppia. No, siamo amici, ognuno sta con un'altra persona. Io sono arrabbiata perché lui non è disponibile, però non è neanche disposto a levarsi di torno, quindi mi ammorba un po' la vita con la sua presenza e quando si provano dei sentimenti ovviamente questo è un problema e quindi decido di scrivere questo libro su questo tizio disturbato che fa fuori le sue fidanzate, riferendomi a lui. Poi gli chiedo... Di solito è una domanda che facciamo, cioè se c'è un'associazione tra i personaggi. In questo caso viene fuori direttamente? Sì, inizialmente sì. Poi succede che io un pochino mi placo, accetto che siamo amici e gli dico, vabbè siccome mi piace scrivere con te, ti va se lo scriviamo insieme. Lui non sa che sono lui e le sue fidanzate e il libro prende un'altra vita. E scriviamo tutto il libro, alla fine del quale finalmente cede, io divorzio, tutto quanto e niente, soltanto che noi all'epoca eravamo gente che non aveva mai pubblicato. Scusate, la regia sta avendo delle reazioni che normalmente non registriamo. Anch'io, anch'io li amo, vogliamo tutti prendere esempio, tutti esempio da loro. Quindi, e poi fate questo passo in consulto che è andare a vivere insieme e riprodurvi anche. Sì, ci riproduciamo praticamente prima di andare a vivere insieme. O quasi, sì. Eh, lo so, lo so. Nel senso io sono andata a firmare il divorzio col pancione. Il giudice t'ha chiesto, ma è sicura? Cause. Cause, è vero. Non vuole ripensarci, veda lei. Ok, questa più o meno è la storia ufficiosa. Questa è l'intro. Questa è l'intro. La storia ufficiosa. Voi però siete a risolto giallo. E a risolto giallo si parla dei gialli, dei thriller, dei noir, di tutte le angosce, le brutture, le follie che siete riusciti a inserire in un unico testo che è un po'. Come, allora, domani, in quanto tempo sei riuscita a finire da te questo libro? Calcolando che lo leggevo solo di sera, credo, sulle quattro sere. Quattro sere, sì. Sì, sì. Ma mentre lo leggevo, messaggiavo con lei. Ah, perfetto! Quindi ero un po' distratta perché loro, l'hai visto, sono molto molto simpatici. Allora, sentiamo la versione di lui. Perché loro fanno così, vedete, lui, lei, cioè loro sono molto cari, sono molto copia, però ci tengono a mantenere una propria autonomia. Tu come la raccontereste questa storia? Alla Mattel. Questa storia del libro o questa storia nostra? Tutte e due. No, più del libro. Del libro. Del libro e di voi. No, la storia del libro è appunto la storia di questo personaggio, Andrea Ripani, che subito all'inizio del libro, così non facciamo spoiler perché si legge in prima pagina, viene scagionato dall'accusa di un doppio omicidio delle sue due ex fidanzate, uccise con un cappellino in gola, soffocate con un cappellino in gola. Da qui parte ovviamente tutta la vicenda del se non è lui. c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di personaggi che puntano il dito contro Andrea Ripani, contro l'imputato scagionato, che ovviamente ha in qualche modo una vita, vive, si trova a vivere una dicotomia esistenziale, nel senso che sì, è vero, lui è stato scagionato in appello, il problema è che l'opinione pubblica, così come tutti gli altri personaggi del libro, gli puntano il dito contro e per loro lui sarà sempre il presunto assassino o comunque il colpevole. E da qui appunto la ricerca di Andrea di trovare una soluzione a questo dito puntato contro di sé, a questo riflettore puntato contro di sé. Conosce una ragazza, Beatrice, che inizialmente è molto contro di lui e poi per una serie di vicende si allerà con lui alla ricerca di questo fantomatico colpevole. Beatrice è una podcaster. Una podcaster true crime. A questo punto però ve lo dobbiamo chiedere quando l'abbiate scritto, perché voi sapete, noi sappiamo che i podcast sul crime sono un fenomeno tutto sommato abbastanza recente. Noi l'abbiamo scritto e riscritto più volte. Inizialmente era un blog, quindi per dire quanto è datato. Anche lui era un blog. Diciamo che inizialmente, no non era un blog il libro, inizialmente quando l'abbiamo scritto, visto quello che vi abbiamo raccontato all'inizio. Quello che ha Beatrice inizialmente. Sì, era un blog true crime. Beatrice all'inizio aveva una pagina social, un blog, che si chiamava sempre i delitti della circonvallazione e ovviamente quando l'abbiamo ripreso in mano ultimamente pre-pubblicazione gli abbiamo dato un po' di freschezza, un po' di modernità. Però diciamo che abbiamo un pochino precorso i tempi con la tendenza, nel senso che io sono appassionata true crime da quando ero bambina praticamente e mi sono immaginata questo blog in un'epoca in cui il blog true crime cioè non se lo filava veramente nessuno. Però mi piace perché adesso come adesso è una cosa terribilmente di moda quindi è bastato veramente scrivere podcast al posto di blog mettere un microfono al posto del computer per trasformarci in qualcosa di estremamente attuale. Che poi volendo prima c'erano gli audiolibri. Tra l'altro loro sono i primi secondo me che hanno una podcaster come protagonista di Un Giallo. Guarda da qua ne passano veramente tantissimi e quelli che non arrivano qua comunque sono sul comodino mio. Molto bene. Ma io... È vero. Sarà che c'è un podcast true crime anch'io ma il mio è un po' particolare. Posso fare una piccola pubblicità? Dai via. Lo facciamo. Io ho un podcast che si chiama PQM che vuol dire per questi motivi ed è come finiscono tutte le sentenze penali italiane. Perché io nella vita faccio l'avvocato penalista e il compito che mi è stato impartito da questa società è spiegare perché in un certo caso il giudice abbia deciso in un certo modo. Molto interessante. Ed effettivamente sta andando bene perché è all'interno di un true crime perché ci sono tre puntate settimanali su un true crime proprio classico e poi alla quarta arrivo io e ti spiego perché. Il perché di PQM per quali motivi. Dopo ti chiedo se è quello che ho trovato. Su Spotify? Su Spotify. Torniamo alla narrazione. Milano. Milano prevalentemente Navigli però anche un pochino di Interland. Insomma tocchiamo, sfioriamo Rozzano, sfioriamo Corsico. Navigli, Navigli, Movida. Movida, locali, locali, alcol, aggressioni alle ragazze, pagina veramente molto cruda, realistica. Chi l'ha scritta dei due? Molto, molto realistica. Quanto volevate essere anche un po'... te la racconto così, la metto in un libro ma già che ci siamo ti sto dicendo occhio perché se esci con le tue amiche e ti sfondi di alcol poi potrebbe succedere qualcosa di brutto. ma allora no, non c'era una volontà di dirlo, c'era banalmente un riprodurre dei fatti che purtroppo sono all'ordine del giorno, nel senso che è una triste abitudine per le donne avere comunque un bagaglio di molestie più o meno gravi purtroppo da raccontare. Nella vita da single, nelle uscite serali, nell'abuso di sostanze in generale, si va spesso nei contorni sfumati. In questo caso noi abbiamo voluto comunque creare un personaggio di questo momento che è volutamente poco sfumato perché non vogliamo dare attenuanti a questo tipo di comportamento. Quindi in lui non c'è sfumatura, nella situazione probabilmente ce ne possono essere tante, ecco. Bravi, complimenti. Vogliamo passare all'altro? It's up to you, a te. No, perché sono curioso di questo Disordinary Family. Invece, cioè, qui siamo su un thriller, lì invece siamo... Su un autobiografico, una varia... Molto, molto... Molto... Sì, molto autobiografica perché di fatto quello che abbiamo abbozzato prima come racconto di coppia è che sì, abbiamo scritto quel libro, ma nel mentre noi stavamo costruendo la nostra storia, la nostra relazione, la nostra coppia, la nostra famiglia, eccetera. Nella nostra prima vacanza insieme, lei, parlavamo la sera davanti al mare, diceva cavolo, però la nostra storia ha delle sfumature, visto che nessuno ne parla di questa... dei temi di famiglia allargata, di cosa succede dopo un divorzio, eccetera. Cioè, se c'è vita oltre il divorzio, oltre la separazione, se si può convivere in X modi diversi, facciamone un libro. E io le dicevo, insomma, Mauri, non ci conosce nessuno, non interessa nessuno, addirittura un libro, insomma, si immaginava già un Harry Potter con i nostri personaggi. E allora le ho detto, dai, facciamo, apriamo una pagina Facebook, e da lì è nata la pagina Disordinari Family. Dopo tre mesi ci ha, appunto, contattati l'editore per scrivere questo libro sulla base dei post che già quotidianamente, e ce n'era già una folta quantità, pubblicavamo sulla nostra pagina. Perché effettivamente, 8-9 anni fa, 2008 anni fa, era un argomento ancora molto vergine sui social, o comunque un argomento... Si, si sta iniziando adesso, forse, a parlare bene di separazioni. Però, 8 anni fa, era un argomento di cui nessuno voleva parlare, anzi, era una cosa che è sempre meglio tacere, perché, insomma, ci si deve un po' vergognare. Sì, poi io l'ho fatta proprio brutta, nel senso, cioè, la mia era proprio la storia quella che non devi raccontare, quella che fai, che c'hai un altro, che ti innamori, che lasci per questo, che c'hai un bambino piccolo, che glielo dici davvero, invece di dirgli bugie, il contrario di quello che si fa normalmente. Cioè, di solito non si dice, si cerca di aspettare, al bambino non lo raccontiamo, e si va avanti in questo modo qua. Io, invece, sono sincera in modo patologico, e quindi avevo voglia di raccontare che, alla fine, si può trovare del costruttivo, anche in una narrazione più realistica delle cose, e si può anche, facendo una roba un po' pesante, cercare di farla al meglio possibile per tutti gli attori coinvolti. Volevo far vedere l'atto edificante anche delle strade non perfettamente dritte. Sì, non vuole essere, ovviamente, un elogio, un ode al divorzio, alla separazione. Vuole essere semplicemente al, siete una coppia, se si può risolvere in un modo o nell'altro, bene, se però non c'è nessuna via d'uscita, non c'è niente di male, insomma, non succede niente, si continua a vivere ugualmente. Si può continuare a essere famiglia anche senza il possesso umano, poi, della coppia che rimane magari attaccata ad amori che non ci sono più... Certo. No, perché poi ci sono tanti esempi di persone che ci scrivono sulla pagina, ci hanno sempre scritto dicendo restiamo insieme per i bimbi, eccetera. Io, personalmente, sono figlio di due genitori separati, non l'ho vissuta così tremendamente, se non il momento in cui sono venuto a sapere di questa cosa, però poi crescendo ho capito perfettamente le motivazioni e non ho mai visto poi in seguito i miei genitori così contenti mentre erano assieme fra di loro. Post separazione, post divorzio, sono riusciti a trovare la loro quadra nella vita. Probabilmente il segreto del successo della pagina Facebook stava proprio in questo, nel fatto che tantissima gente si riconoscesse in quello che voi scrivevate e che nessun altro prima lo avesse fatto perché questa è rimane una nazione cattolica, parliamoci chiaro, dove tutta quella parte lì deve ancora rimanere in secondo piano o comunque essere ancillare rispetto al modello della famiglia perfetta, Mattel, che funziona. Io credo che voi abbiate fatto un... oltre che un blog e un libro abbiate sdoganato un concetto che nei tribunali sezione famiglia verrebbe premiato nel senso che tutta la conflittualità durante e successiva alla separazione poi si ricade sui figli e chi invece riesce a gestire l'allargamento e il rapporto con l'ex partner che resta comunque ancora e per sempre genitore del figlio Ma giusto ieri siamo stati tutti insieme alla prima gara di martello di nostro figlio realtà allargata quindi siamo due mamme e due papà Di martello in che senso? Il lancio del martello Si sta già allenando Insomma si può fare si può anche mandare giù e in questo sia stati bravi veramente tutti e fare un passo oltre e capire che ci si può continuare a volere bene, a rispettare e a crescere un figlio anche insieme che più amore per un ragazzo non è mai un problema il problema è meno, non è di più Certo Beh è davvero incomiabile se vi ascoltassero certi personaggi abbiamo coniato un termine neologismo che si chiama separicidio che è un viaggio in mezzo tra la separazione e l'omicidio perché è proprio lì che si annidano tanti vizi tutti i tuoi No, un'ultima cosa legata al titolo Disordinario F la scelta della D la O e la F il color rosso c'è un significato particolare oppure no una scelta stilistica Penso sia stata una scelta stilistica Ah ok Il nostro Disordinario però siccome ce lo chiedono in tanti non è legato a parte che è sostanzialmente un neologismo o meglio a un'antica parola usata a fine Settecento poi caduta in disuso e recuperata dalla mia fantasia che poi ho scoperto che invece già la usava Settecento nessuno la usava più però appunto Disordinario è non ordinario non disordinato ma la Disordinario Family è appunto il racconto un po' cioè ironico di una famiglia allargata o di una famiglia non ordinaria come poi di fatto siamo tutti tutti allargati o meno è vero è vero ma nel futuro di Trigiane Bottarelli che tipo di genere potrebbe esserci? Allora sicuramente noi vogliamo scrivere thriller questo è quello che vogliamo però non c'è rabbia in questo momento no 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 noi vogliamo scrivere thriller e ci piace molto anche la parte ragazzi noi abbiamo già scritto un libro per ragazzi proprio sui temi della separazione e quella è una parte che ci piace del raccontare storie non ordinarie raccontarle ai bambini ha un valore importante perché a livello educativo il fatto di fare un tipo di divulgazione un pochino meno patinata è qualcosa che ci piace molto ma la strada principale vorrebbe essere quella della narrativa comunque della narrativa gialla o giallonera ecco sì quello di cui parlava Mauri è la famiglia tra i cognomi ed è un illustrato per bambini dai 5 agli infiniti in realtà perché per spiegare ai bambini i temi della separazione abbiamo visto anche degli adulti versare qualche lacrima leggendolo e no però appunto nel nostro futuro c'è sicuramente la volontà di continuare col thriller perché è stato sentito voluto perché di fatto è il primo genere su cui ci siamo tuffati avevamo già trovato un piccolo editore prima di pubblicare questo ma pubblicando la pagina facebook era arrivata la richiesta di scrivere questo quest'altro e abbiamo messo nel cassetto e poi l'onda ha portato a lui abbiamo messo nel cassetto no è stato più difficile del previsto perché nell'editoria il passaggio da un genere all'altro soprattutto noi che abbiamo già un pubblico di famiglie un pubblico che le ha letto di questo genere ha trovato difficoltà un po' di attrito nelle case editrici perché ci dicevano siete bravi scrivete bene siete interessanti divertenti perché non scrivete un altro di questo tipo e noi ci abbiamo creduto fortemente e pare pare perché il risponso di chi lo ha letto è molto positivo che abbiamo fatto bene il sister che possiamo continuare a farlo che possiamo continuare a farlo mi sto domandando quale personaggio potrebbe rimanere seriale e ce ne sono un po' in realtà mi sto domandando chi potrebbe scegliere c'è l'ispettore c'è Beatrice stessa ce ne sono un po' in realtà noi li abbiamo già ipotizzati abbiamo diverse idee in cantiere ne abbiamo potenzialmente quattro adesso bisognerà solo ciò noi alla fine siamo gente di marketing quindi quando scriviamo l'idea comunque è un occhio anche a quello che può succedere dopo siamo fatti così siamo gente un po' creativa ma quel creativo lì e quindi avete continuato con quel lavoro lì di prima no ci siamo messi in proprio abbiamo una nostra una nostra piattaforma noi veniamo dal digital tutti e due quindi avevamo anche la possibilità di costruire insieme cioè alla fine costruire insieme credo che sia la nostra missione nella vita building couple e nella vostra piattaforma di che cosa vi occupate? benessere benessere si chiama do fit è una palestra digitale con anche tutta la parte di cucina di cucina sana di meditazione psicologia psicologia cura della pelle hobbistica riflessologia c'è di tutto c'è la parte diciamo palestra allenamento digitale la parte di videocorsi video guide sia video che testuale una piattaforma piattaforma LT salutare insomma come Gwyneth Paltrow spostati che arriva Mauri ottimo molto 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 creativi un incontro molto fortunato il vostro e il nostro con voi teniamoci presenti io voglio portare quel libro lì in tribunale perché secondo me al netto del fatto che molti colleghi e colleghe mangiano sulle separazioni altrui però tutti saremo molto più contenti se le cose venissero gestite come avete fatto voi sicuramente mettere a riparo i figli dagli asti personali è molto importante tanto importante quanto quanto paghi poco perché funziona molto di più alimentare il conflitto per tantissime categorie beh funziona per modo di dire perché noi alla fine ed è quello che cerchiamo di fare è dare un esempio diverso nel senso che poi funziona in realtà no perché poi le persone non sono contente invece se tutti possono andare avanti più in fretta con le loro vite e in modo più sereno anche le ferite si rimarginano prima si spendono meno soldi e tutti sono più felici ma c'è qualcosa che si chiama ego purtroppo c'è qualcosa che si chiama no c'è qualcosa che si chiama poi ego eh sì purtroppo che porta diciamo che quello bisogna fare tutti un passo ma proprio in generale ma questo meriterebbe un altro libro ecco scrivetelo esatto ego retro vade retro ego puntata molto spumeggiante con due ospiti veramente simpatici creativi intelligenti perfino Mazzavillani ci ha fatto una bella figura oggi è uscito benissimo no infatti ho fatto poche domande perché in queste circostanze mi piace più ascoltare piuttosto che chiedere veramente molto molto interessante alla prossima puntata di risalto giallo grazie quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo grazie grazie grazie